...dà gioia per questi due ragazzi che la vogliono condividere con le famiglie, lo sposo e da sposo è una festa e come lo fanno? spedendoti, facendoti pervenire, portando alla pura mano, fini a casa, una partecipazione di matrimonio dovrebbe essere un momento di grande condivisione, di grande gioia per questi due ragazzi che finalmente ce l'hanno fatta oh cazzo, non posso garantire che quando arriva la partecipazione i matrimoni della famiglia sono un lutto il marito e la moglie ha lo svuoto di più faccio 15 ore, la mattina è la casa di mamma davvero allora la partecipazione, Salvatore e Anna sono lieti di invitarti a loro a matrimonio ma mettono lì in bagno e ma che cazzo sono? la moglie... ehi, chi è Anna? Anna, chi è sta Anna? ma con Anna? e Anna Cilla sta la partecipazione, ma chi è sta Anna? ma con cusce, mandarella e la moglie, la moglie pur nannine, ma chi cazzo è? è la figlia di Zia Titina Zia Titina ed è una zica che si chiama Titina, non lo so ma come avevamo male quando eravamo piccolini tutti insieme con Zia Titina poi Zia Titina sono vent'anni che si è trasferito a Torino ed è rimasta là ma... ma che capisci, Zia Titina sono vent'anni che non so fare non so fare una bella e buona partecipazione e la figlia che ti ha spusato mi sa, che mi sarei a buffi baci e mi sarei a fare una cosa ma che stai con questi con questa partecipazione? e intanto, voi lo sapete da quando ti arriva la sfugliatella a casa vuoi, non puoi ci vai o non ci vai? vuoi regalare a fare! eh eh, l'atto di lavoro, mamma fa tutto qua! I ragazzi di oggi fanno le cose moderne, fanno le liste di nozze, in certi negozi che ti scusono, ti scuciscono il lato d'oro, la cosa si chiamava un culo, noi chiamano il lato d'oro, il lato d'oro, ciò costa tutto carissimo, bisogna sapere qual è il negozio, al più presto, perché il tuo regalo costa il più buono, c'è stata una cena, una volta che hanno saputo i negozi hanno fatto la nottata da fuori.